La storia del cristianesimo in Europa comincia qui, nella Basilica di San Giovanni in Laterano, la più antica e importante d'Occidente. Le stanze di Palazzo Lateranense, per secoli in residenza papale, da tre settimane sono aperte ai visitatori per volontà di Papa Francesco. La riapertura risponde a una domanda, a un'istanza che c'è venuta direttamente dal Santo Padre e significa mettere a disposizione, lasciar fruire questa bellezza ai turisti, ai romani, agli italiani, a tutto il mondo, di un palazzo che ha segnato un passaggio e dei passaggi molto importanti della storia della Chiesa e quindi anche della storia del mondo e dell'Italia, chiaramente. Un'intera sala è dedicata a Costantino, che c'è detta il complesso ai cristiani nei primi anni del Trecento, i quali, prima di Palazzo Lateranense, vi stabilirono il patriarchio costantiniano. Qui nel Trecento è stata l'esidenza dei Papi, poi il Papa si sposta ad Avignone, in Francia, quindi quest'area che appunto era già periferica, è un'area che quando il Papa poi ritorna, dopo 70 anni, troverà abbandonata, troverà accolta come luogo di brigantaggio, un luogo di degrato, quindi si sposta, la Curia Papale si sposta in Vaticano, alcuni conclavi si celebrano nel palazzo del Quirinale, quindi è Papa Sisto V che vuole riattivare e costruire appunto il nuovo palazzo, questo palazzo. E tra gli affreschi della Sala del Trono e gli iscrittori, in quella dei Pontefici, c'è la copia originale dei Patti Lateranensi, con i quali fu sancita l'indipendenza dello Stato Vaticano. In calce al documento, oltre alla firma del segretario di Stato di Papa Pia XI, c'è quella di Benito Mussolini.